Dobri dien, da decenni esportiamo le nostre miscele in tutto il mondo. La nostra famiglia è sempre stata legata al caffè. Abbiamo imparato molto da nostro padre e oggi, insieme ai nostri figli, vogliamo continuare a portare avanti la tradizione dell'eccellenza del Made in Italy. Crediamo fermamente che un paese come il vostro ha un grandissimo potenziale e si possono trovare partner che sapranno apprezzare non solo la qualità e la tradizione del nostro caffè, ma anche il vero significato della tostatura italiana artigianale, che rende il nostro caffè un esempio dell'Italian lifestyle. Per le nostre miscele utilizziamo origini di altissima qualità, selezionate e dal profilo sempre costante e tostate rigorosamente fresche all'ordine. Abbiamo una vastissima gamma che soddisferà anche i gusti più esigenti dei clienti. Tra i nostri prodotti più apprezzati c'è il 12 Grand Cru, una miscela composta da 12 delle migliori arabiche Grand Cru, da 12 diversi produttori del mondo. Una miscela unica al mondo. Permetteteci di inviarvi gratuitamente un campionario per l'assaggio delle nostre miscele. Il team Bazzara ha anni di esperienza e certificato come sistema internazionalmente riconosciuto della SCAE e parla numerose lingue, tra cui la vostra. Perciò metteremo a vostra disposizione non solo le nostre profonde conoscenze del caffè, i nostri libri e la nostra accademia, ma anche persone di madrelingua per provvedere a tutte le vostre necessità. I nostri importatori collaborano con noi da decenni, con altissimo tasso di soddisfazione e fidelizzazione, grazie alla nostra serietà, alla qualità, ma anche ai prezzi competitivi, uniti alla massima attenzione alle esigenze dell'importatore. Vi invitiamo anche a venirci a trovare nella nostra sede a Trieste, che si trova in uno dei palazzi storici più belli della città. La nostra città, Trieste, è la più vicina al confine col vostro paese ed è considerata la capitale dell'espresso italiano. Come il caviale vero si compra solo in Russia, così l'espresso migliore si produce in Italia. Mi chiediamo a Trieste.